Chi vince l'Europeo 2024 secondo l'algoritmo? È arrivata la previsione dell'algoritmo di Opta che secondo me farà estremamente discutere. Farà discutere perché la Francia, da tutti data per super favorita, una squadra pazzesca, non ha fatto un grande girone e non viene messa nemmeno sul podio di questo europeo addirittura da questo algoritmo. Ci sono un altro paio di sorprese, l'Italia non è sicuramente tra le favorite, è abbastanza scontato questo, però secondo me il tabellone dell'Europeo si è fatto molto molto interessante a questo punto e allora perché non dobbiamo pensare in grande con la nostra nazionale? Ne parliamo in questo contenuto di oggi in cui ne approfittiamo per parlare un po' anche di Euro 2024, degli interisti in questo europeo e di tutti i temi collegati. Ben ritrovati e ben ritrovati allora amiche e amici di Passione Interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno e le nostre dirette alle 19.30, mi raccomando. Torna l'algoritmo, un algoritmo che qui su Passione Inter vi abbiamo fatto conoscere e vi abbiamo fatto vedere tante volte come funziona l'algoritmo, ve lo spiego molto velocemente. Il sito è Opta, quindi diciamo uno dei principali raccoglitori di statistiche sul calcio a livello mondiale che raccoglie appunto tutti i dati, tutte le statistiche e tramite questi va ad assegnare poi dei power index, diciamo dei valori di forza a ciascuna squadra che viene analizzata in questo caso a ciascuna squadra di Euro 2024, si aggiungono poi tutta una serie di statistiche e vengono simulate tutte le partite, tutti gli incroci fino alla fine dell'europeo. Queste simulazioni vengono ripetute decine di migliaia di volte e al termine di tutte le simulazioni si calcola quante volte è avvenuto ciascun evento. Per esempio facciamo 20.000 simulazioni, si verifica quante volte è avvenuto all'interno di queste simulazioni l'evento Italia vincitrice di Euro 2024 e questo lo si fa per tutte le possibili scale, quindi super ai ottavi, super ai quarti, super alla semifinale eccetera eccetera e per tutte le squadre e alla fine viene stilata quindi una classifica che viene banalmente semplificata nella probabilità di vittoria secondo questo algoritmo. In questa scala, in questa classifica ve la mostro subito, chiaramente le squadre con le minori possibilità di vittoria secondo questo calcolo sono la Georgia, la Slovenia, la Slovacchia e la Romania che sono tutte sotto all'1%, la Danimarca si posiziona un po' sopra con l'1.42, la Turchia 1.77 era una di quelle squadre che avevo detto di tener d'occhio in questo europeo perché molto interessanti con un buon talento, la Svizzera, la nostra avversaria vincitrice al 2.25%, il Belgio molto male nel girone, sinceramente sono rimasto molto deluso il rendimento del Belgio 2.33, l'Austria 3.90 e arriviamo poi all'Italia 4.86, l'Italia che viene messa al settimo posto quindi come probabilità di vittoria e meglio dell'Italia troviamo l'Olanda 6.70, il Portogallo 8.34, la Francia 13.40% si posiziona al quarto posto quindi fuori dal podio come probabilità di vittoria, alle spalle di Germania 15.83, Spagna 17.17 e Inghilterra addirittura prima 19.98%. Quindi secondo questo algoritmo l'Inghilterra risulta essere la squadra che in questo calcolo diciamo che in questo algoritmo appunto è risultata più spesso vincitrice all'interno delle migliaia di simulazioni che sono state fatte. Ora non so cosa ne pensate voi di questa classifica, io francamente per quello che ho visto in campo non sono molto d'accordo, ho visto un'Inghilterra poco convincente con tantissima quantità di talento ma dove alcuni giocatori ad esempio Bellingham sta facendo per me della difficoltà anche a trovare il contesto giusto e mi sembra una squadra non costruita al meglio in termini di identità di gioco. La Spagna invece non me l'aspettavo così forte anche se avevo buona fiducia sulla selezione di De La Fuente e penso possa andare veramente avanti. La Francia tantissime individualità molto forti, forse a livello di collettivo qualcosa sta mancando, forse anche Deschamps lo vedo un pochino a fine ciclo. Sono curioso di vedere l'Olanda invece che per me ha un buon potenziale a livello di talento, sull'Inghilterra tra l'altro stavo pensando anche a Spalletti, sull'Inghilterra devo dire c'è un po' di nervosismo anche che, non lo so, secondo me io ho buone sensazioni se li andiamo ad affrontare ai quarti di finale, quindi sull'Inghilterra così favorita ho qualche dubbio. L'Italia invece al settimo posto, per quello che si è visto finora forse devo dire anche un po' eccessivo come piazzamento, perché l'Italia che abbiamo visto nella fase a gironi è stata un'Italia che affrontava sì un girone molto difficile, ma tutt'altro che convincente, sia per identità di gioco che sembra ancora non avere, sembra non avere ancora le idee chiare. Spalletti sta intraprendendo, e per questo ci dava l'Inghilterra, un po' quella strada che all'Italia di solito funziona, del trovare degli avversari all'esterno, di creare il rumore dei nemici, ecco sta provando un po' questa strada a Spalletti, vedremo se funzionerà. Le cose buone da prendere per l'Italia sono che peggio di così, di quello che è stato fatto nel girone, non si può fare, anche perché senza il gol di Zaccagni l'Italia sarebbe andata a casa, visto che il terzo posto non sarebbe bastato all'Italia per approdare alla fase finale di questo europeo, e poi tendenzialmente credo che superato il girone ci si sia tolto un po' del peso a livello psicologico, e l'Italia può tirar fuori qualcosa in più, secondo me appunto in questa fase finale. E poi oggettivamente ragazzi il tabellone favorisce l'Italia, o quantomeno ci invita a pensare in grande, perché dall'altro lato del tabellone sono finite la Spagna, la Germania, il Portogallo e la Francia appunto, e anche il Belgio mettiamoci che comunque erano visti, la Francia, il Portogallo, la Germania e la Spagna sono visti tutti sopra noi come probabilità di passaggio, di vittoria ecco di questo europeo, mentre dal nostro lato del tabellone abbiamo come principali insidie l'Inghilterra appunto e l'Olanda. Per il resto io credo che l'Italia contro la Slovacchia, contro l'Austria, contro la Turchia, contro la Romania e contro la stessa Svizzera, pur riconoscendo il valore di questi avversari, pur riconoscendo delle insidie che chiaramente ci sono soprattutto quando si gioca in partita secca, possa partire con l'obiettivo di andare avanti. Quindi l'Italia davvero si trova ad affrontare la Svizzera nelle condizioni, in alcune condizioni che secondo me ricordano molto quelle con cui ci siamo avvicinati, quelle con cui abbiamo affrontato la partita contro l'Austria nell'ultimo europeo che abbiamo vinto. E quindi era stata una partita molto tosta, molto difficile, che abbiamo superato con grandissima difficoltà e poi da lì il nostro europeo si è un po' stappato, mettiamo così. Quindi credo che anche questa volta per l'Italia l'ottavo di finale possa essere una partita che stappa un po' questa nazionale, una nazionale che non ha dei grandissimi valori, non ha dei grandissimi giocatori in senso assoluto, ma per me non è nemmeno quella squadra che abbiamo visto fino a qui. C'è qualcosa in più all'interno di questa nazionale che possiamo ancora tirar fuori e dobbiamo ancora tirar fuori. Molto passa dal blocco Inter, probabilmente, lo cito perché sto vedendo, ne parlavamo anche nel club di Passione Inter, vedo tanti tifosi delle altre squadre chiaramente che secondo me sarebbero più contenti di vedere uscire l'Italia per poter dire che è colpa del blocco Inter piuttosto che esultare per la vittoria dell'Italia. Siamo arrivati, il bruciore per lo scudetto che gli abbiamo stampato in faccia ha portato a questo livello qua, secondo me. Il blocco Inter per me è un qualcosa su cui l'Italia dovrebbe fare affidamento, in realtà. Dovrebbe fare affidamento perché in questa nazionale di veri e propri campioni non ce ne sono. Per me i campioni della nazionale sono Donna Roma e Barella, questi due. Gli altri sono dei buoni giocatori che possono essere valorizzati da un buon allenatore che però sta sentendo un po' troppo la pressione, secondo me, da questo punto di vista. Ci si potrebbe affidare a questi giocatori dell'Inter, non dico che si debba fare la formazione sulla base di quello che dicono i giocatori dell'Inter. Però già mettere un bastoni un po' più nel suo ruolo sulla sinistra, come terzo a sinistra. Mettere Di Marco nelle condizioni di poter fare quegli scambi con il braccetto, il terzo e sinistra della mezzala per poter arrivare poi sul fondo in maniera migliore. Oppure Darmian, sì che Darmian lo può, l'Inter e Darmian lo usa come jolly, a destra, sinistra, terzo, quinto, eccetera. Però lo usa come jolly in un sistema che funziona e non si aspetta che sia Darmian a fare da fulcro che sistema tutto con il suo equilibrismo. È un elemento in più molto utile e quindi anche qua accanirsi su Darmian in una prestazione in cui l'Italia non costruisce, non fa nulla, lo trovo francamente fuori luogo. Su Barella c'è poco da dire, secondo me uno dei pochi che si salva di questa prima fase dell'europeo e della nazionale. C'è tanta discussione su Frattesi che ho visto riprendere anche da tanti interisti, non ha fatto bene Frattesi sicuramente in questa prima parte, però anche qua dare le colpe a Frattesi in un'Italia che non supporta la fase d'attacco con una costruzione ampiamente insufficiente la vedo una critica abbastanza miope. Contro la Svizzera secondo me sarà una partita in cui in realtà gli assaltatori saranno molto importanti, ci sarà possibilità, io confermerei ancora Scamacca, lo rimetterei al centro di questo attacco perché nella sfida con la difesa centrale della Svizzera, con quel famoso Akanji che io suggerì prima che andasse al Manchester City come colpo per l'Inter, sta facendo un grande europeo Akanji, sarà una sfida molto interessante con Scamacca perché Akanji è coraggioso, si muove, Scamacca può trarlo fuori e Frattesi può andare ad assaltare quello spazio là, ecco e io quello spazio là lo andrei a prendere con Frattesi che assale e un bastone che è schierato a sinistra può fare degli assist come nelle sue corde, come può fare e questa cosa fin qui è molto mancata. Quindi si parla tanto del blocco Inter ma il blocco Inter è stato diciamo dislocato in una maniera che chiaramente non poteva rendere al meglio fino a qui. Quindi mi aspetto ecco un miglior coinvolgimento perché in questo momento vedo davvero pochi giocatori inseriti nel loro vero ruolo e davvero pochi giocatori messi nelle condizioni di esprimersi al meglio, questo è un po' il mio punto di vista anche su questo discorso del blocco Inter. Sono curioso di sapere un po' che cosa ne pensate anche voi, anche di questo europeo, un europeo che si è chiuso a una fase a gironi comunque diciamo abbastanza così, nel senso non proprio caldissima, nel senso che dello spettacolo c'è stato, io mi sono divertito nel guardare tante partite, è una formula che però elimina troppe poche squadre, per cui le vere partite di grande spessore sono poche e soprattutto le squadre che giocano negli ultimi gironi sono favorite perché possono fare tutti i calcoli sulla base dei risultati prima. Quindi è una formula che secondo me andrà rivista, adesso inizia il vero e proprio europeo con ancora tanti interisti protagonisti, con Cianoglu decisivo importantissimo anche nella Turchia che ha messo, che appunto sarà Iottavia ed è una squadra da tenere d'occhio. Ci sono diversi giocatori che mi hanno incuriosito, alla prima giornata avevo segnalato Mika Utazzi che è andato subito in gol e poi è di fatto il capocannoniere di questo europeo ed è un giocatore molto molto interessante, mi ha colpito, ci ha colpito ne abbiamo parlato nel club anche Pras dell'Austria, sono curioso di sapere se anche voi avete notato qualche giocatore che farebbe comodo all'Inter, si sta parlando molto anche di indoglie di cui abbiamo parlato anche noi perché è un obiettivo concreto dell'Inter e ci ritroveremo di fronte con la sua Svizzera, ne abbiamo parlato in un contenuto che trovate sul nostro canale, scrivetemi magari nei commenti un po' le vostre impressioni anche su alcuni giocatori di questo europeo, se c'è qualcuno che potrebbe far comodo all'Inter, magari non ancora molto noto, scrivetemi anche le vostre previsioni su dove arriverà l'Italia se supera il turno con la Svizzera, io credo che l'Italia possa farcela, la vedo ad un 51-49 per l'Italia in questo duello con la Svizzera, una Svizzera che è una squadra molto ben organizzata con dei giocatori di qualità, con il blocco Bologna, visto che abbiamo parlato di blocco Bologna, di blocco Inter, che funziona, che funziona bene e che può metterci in difficoltà sicuramente, c'è il nostro Jan Sommer che andremo ad affrontare e ci sarà quindi una partita che andrà ad affrontare nel migliore dei modi, una battaglia nel vero senso della parola se lo superiamo, però siamo in diritto di sognare perché secondo me anche con l'Inghilterra ce la possiamo giocare, ce la possiamo giocare alla grande e poi si aprono scenari inaspettati forse per quelle che erano le previsioni all'inizio di questo europeo. Aspetto i vostri commenti così lo analizziamo insieme, ne parliamo insieme, vi lascio con un altro contenuto che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui e mi raccomando vi aspetto su passioninter.club, clicco qui.